in realtà lo assolve perché dimostra che Renzi ha fatto di tutto per non fare... teneva disperatamente ai margini il padre dalla sua vita e sfuggiva al padre ed è questo che gli rimprovera il padre. Comunque il punto è che... beh però uno può non essere contento che francamente venga esposto all'opinione pubblica una lettera privata del padre o i propri dissidi nei confronti del padre c'è magari chi non ha piacere di questo ma il punto secondo me è che mentre i giornalisti hanno la responsabilità oggettiva ecco anche i PM secondo me dovrebbero avere la responsabilità oggettiva per le notizie che vengono diffuse che partono dal loro ufficio e che non hanno interesse sull'inchiesta perché la credibilità di un uomo è sacra. Il rapporto privato fra uno e il padre e il figlio sono cose che siccome come ha detto anche lo stesso Travaglio non interessano l'inchiesta non si deve non si capisce perché devono essere... Travaglio poi vi faccio vedere che le armi di Renzi in fondo non sono state così differenti in questo caso. Prego Marco Travaglio. All'ho già spiegato se in quella lettera si fosse parlato soltanto dei dissidi privati quella lettera non sarebbe stata depositata e il giudice non l'avrebbe accolta negli atti del suo processo. Il giudice l'ha accolta agli atti perché ci sono gran parte di quella lettera che invece riguarda molto le vicende societarie per le quali il padre insieme alla moglie è sotto processo. Si tratta dell'accusa di tre bancarotte di tre loro società e lì si parla di rapporti societari. Ce l'ha con Carrai perché Carrai non gli ha presentato l'amministratore di poste. Parla del fatto che ha perso tre milioni di fatturato perché gli amici di Rezzi non lo hanno favorito, non lo hanno assecondato. Ci sono un sacco di cose che il giudice, non i pubblici ministeri, hanno ritenuto utili per quel processo perché parla di vicende societarie. Dopodiché i giornalisti non hanno avuto quelle cose sottobanco da un PM, sono depositate in un processo pubblico. I processi sono pubblici in Italia tutti, quelli a noi privati cittadini e quelli ai politici. Una persona che ha potere e può condizionare le vite altrui deve agire secondo me con rispetto degli indagati, soprattutto con rispetto anche dei non indagati ancora di più, con maggiore accortezza. Deve inguattare le prove che gli servono. A me sembra novella 2000, non mi sembra un atto di un giudice francamente, questo non è dignitoso. Per la magistratura è prima che per gli indagati, perché se io non distinguo un atto giuridico da novella 2000... Allora vi do delle... Ho appena spiegato che si parla di vicende societarie e non di vicende di corna o di vicende di cuore. La cosa deve essere ancora chiarita...